ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e oggi vi porto un nuovo completo come avete visto nella foto iniziale è un completo stile call of duty allora per fare questo completo andate in un negozio di abbigliamento e comprate diciamo un giubbotto da lavoro a vostro gusto il grigio o il nero io compro il nero perché mi sembra il più azzeccato però ho provato anche con il grigio che non sta male non sta male per me è molto bello anche perché riprende i toni dei pantaloni una volta fatto ciò comprate anche una maglietta come avete visto sotto e adesso andate a comprare i pantaloni da colpo insomma non questi che vedete nel video e salvare il tutto prima di salvare il tutto mettete un guanto un guanto diciamo tagliato nero e andate a salvare il tutto una volta salvato il tutto andremo a vedere il passo successivo insomma quello che dobbiamo fare per riuscire ad avere questo questo completo in stile code allora dopo di che il passo successivo è andare a un negozio ammunition e comprare un paracadute foresta ragazzi neanche un paracadute uno zaino foresta dobbiamo comprare uno zaino foresta e diciamo indossarlo se vogliamo se non vogliamo non lo indossiamo momentaneamente comunque lo zaino deve essere foresta diciamo per accostarsi il più possibile al completo che vogliamo fare insomma no io adesso qua sto a metter un pochino di tempo su tutto questo cazzo le foresta quando l'avevo già comprato comunque va beh non è problema comunque il foresta è questo qui ragazzi quello che state vedendo fatto ciò che cosa dovete fare dovete andare a a un eliporto insomma prendete l'elicottero e vi dirigete verso il vostro yacht adesso andiamo a vedere cosa dovremo fare nello yacht allora una volta nella prossimità dello yacht dovremo cercare di atterrare dentro la piscina a me riesce uguale anche cadendo dentro il mare perché non leva la cuffia non so ma ha detto una botta di culo non so o forse se cadi in acqua non ti toglie la cuffia però comunque dovete atterrare direttamente dentro la piscina in maniera tale che il vostro personaggio si bagga e vi rimane la cuffia però penso che funzioni anche nell'acqua perché a me è funzionato anche nell'acqua quindi andiamo al passo successivo una volta fatto questo andate dentro lo yacht e salvare il completo che avete addosso con la cuffia in questo caso andiamo a salvare il completo dopo di che ci resta gli ultimi due passi ragazzi è abbastanza semplice ci dirigiamo al negozio di maschere andiamo al negozio di maschere sulla spiaggia e andiamo a comprare una sorta di passamontagna da neve insomma no adesso andiamo a vedere andiamo a comprare questo diciamo cappuccio con con lo scheletro davanti e diciamo che il completo è quasi terminato adesso che andremo a mettere questo diciamo questo cappuccio e la la cuffia si toglierà però andremo a fare l'ultimo passo che all eclipse tower andremo verso il telescopio ci metteremo in quest'angolo e correremo verso il telescopio premendo la freccia a destra all'altezza del telescopio in maniera tale che il personaggio si buggerà come andiamo a vedere ci toglierà il cappuccio e noi cosa andremo a fare ragazzi niente di più semplice andremo a riprendere il completo che avevamo salvato con la cuffia e lo andremo ad indossare dopo di che chiuderemo il menu select il menu interazione insomma e ci allontaneremo dal dal telescopio e il vostro completo stile code stile code call of duty diciamo è riuscito stamattina sta un po incestigante però insomma è completo l'abbiamo fatto ragazzi per questo video è tutto un saluto da maxi al prossimo video ciao a tutti ciao